Enrica Sabatini perché c'è la proclamazione del risultato, eccolo. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la pazienza, siamo in timing perfetto rispetto a quanto è comunicato. Allora, in qualità di notaio vi comunico che il voto si è regolarmente svolto, aperto in mattinata alle ore 10 e terminato alle ore 18. Prima di darvi i dati effettivi, mi sembra opportuno fare un confronto in riferimento alle votazioni tenutesi sempre sulla piattaforma russo, in riferimento al Conte 1 del 2018 e al governo Conte 2 del 2019. Allora, vi ricordo che la durata della votazione, in riferimento al Conte 1, era stata di 10 ore. Noi avevamo osservato un'affluenza di 4.480 votanti all'ora. Il calcolo finale lo fate voi, matematica andrete sicuramente meglio di me. In riferimento al Conte 2, invece, l'affluenza oraria era di 8.848 votanti e per una durata del voto di 9 ore. Il voto di oggi si è sviluppato e per una durata di 8 ore e i voti espressi ogni ora ammontano a 9.317. E questo è il dato storico. Adesso passiamo a certificare il voto di questa votazione e precisando è che gli aventi diritto al voto ammontano a 119.544. I voti espressi sono stati 74.537 e il risultato è stato il seguente. Ve lo dico. Allora, sì, ammontano a 44.177 corrispondente a una percentuale del 59,3%. I voti contrari, invece, sono stati 30.360 e corrispondenti a una percentuale di 47%. E questo è il risultato del voto. Tanto io, Valerio Tacchini, notaio in Milano, e certifico oggi a Milano il giorno 11 febbraio 2021. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima domanda.